Grazie a tutti No, non me ne frega nulla, anzi mi dispiace perché ogni volta che passa un anno è uno di meno che dovrò vivere Sì, effettivamente questo non è contestabile nemmeno da Parenzo Anche io condivido che il 31 di dicembre non me ne frega proprio un cazzo Trovate ogni tanto dei punti in comune Mi voglio riallacciare una cosa caro Vittorio Tu hai mai mangiato, adesso ti faccio una domanda che non c'entra niente con l'attualità Hai mai mangiato la pizza col kiwi? Perché pare che in Svezia si siano inventati una cosa di questo tipo Io immagino che tu nemmeno la pizza ami moltissimo, no? Io non mangio neanche la pizza, figlio lui se la mangia col kiwi Tu la pizza proprio non te ne frega niente della pizza Un cibo povero la pizza No, ma non è che io non abbia apprezzato o almeno in passato la pizza Quando stavo a Napoli non ho mangiato volentieri Oggi non mi piace più ma così si cambiano i corsi Sì, da anni che non mangi la pizza È da anni che non mangi la pizza Tra l'altro tu mangi anche pochissimo in generale Sì, tra l'altro anche quello Cioè, meglio bere che mangiare di solito Ma beh, perché bere è più semplice da mangiare Cioè, tu devi sapere Vittorio Parenzo, veramente il direttore mangia pochissime cose Ma proprio pochissimo Quasi come un, si direbbe una volta come un puccino Ma non va sempre in quel meraviglioso ristorante Carissimo, peraltro Come si chiama? Il baglioni Come si chiama? Il baglioni Ma anche, ma che c'entra Uno va al ristorante e non mangia, scusa Ma ho capito, ma uno fa cazzo buone Ma per carità, ma certo, figuriamo Allora, è una stranezza Vittorio, come trovi la vicenda di Amadeus? Che è abbastanza incredibile Ora, posto che la premessa è che a noi di Sanremo Non frega assolutamente nulla Ma neanche di questo Ma c'è una cosa di cui interessa, no? Aspetta, tu non hai mai visto Sanremo in vita tua Io, per esempio, hai anni che non vedo nemmeno un frame di Sanremo Tu hai mai visto Sanremo in vita tua? Quant'è che non vedi Sanremo? No, no, l'ho visto Qualche volta mi è capitato di seguire per 20 secondi, 30 secondi Sì Nel festival di Sanremo Però non è un programma che mi affascini particolarmente Per cui evito di vederlo Non è un atteggiamento snobistico No, per carità Non mi interessa No, ma stai lì davanti alla televisione a sentire le canzoni A vedere quello che dicono i conduttori Per carità Però adesso c'è una polemica Che riguarda, come sai, il presentatore di questo festival Che ha detto Che ha invitato delle belle ragazze Come sue, diciamo, come co-conduttrici E ha detto anche di una di queste ragazze Che insomma l'ha scelta perché è la fidanzata di Valentino Rossi Anche perché sta dietro al suo uomo Ha scelto di stare dietro al suo uomo E lo hanno accusato di sessismo Inopportuna Che è una puttanata pazzesca Tra l'altro La conosci la scrittrice Murgia? No, purtroppo devo ammettere che non la conosco Neanche la Murgia conosce Va beh Ha detto che è assurdo dire che È una delle più grandi scrittrici italiane Ma no, che è più grandi scrittrici italiane Sì, assurdamente È assurdo invitare belle donne E dire che si invitano le donne Perché sono delle belle donne Questa vi sembra una follia o no? Ma diciamo che io Credo che Se devo invitare qualcuno a casa mia Cerco di invitare le persone più gradevoli Quindi se sono anche belle È meglio Aiutano a definire le gradevoli Ma chi c'entra? Uno inviterà una persona interessante Non se è bella o brutta Cosa c'entra? Sì, no, vabbè C'entra anche se è bella o brutta Ho capito cosa c'entra Scusa Non capisco il criterio però scusa Ma se può invitare una bella Invitasse una bella Ma la inviterà una persona interessante Imaggio Dici invito una bella È una persona interessante Meglio una più figa o più interessante Per me è meglio Ho capito che Che parlerebbe Di dei cessi Ma non è questo Cioè non è così Correllato Apparenzo caro Piacciano più Un intellettuale cesso Piuttosto che Un ignorante figa Tu che cosa scegli Tra un ignorante figa E un intellettuale cesso Così tanto per capirci No io preferisco Cioè il intellettuale Non me ne frega un cacchio Eccolo qua Tanto per cominciare Sì Prima questo Sono persone che mi sono simpatiche Con le quali ho un affetto Ah certo Evito volentieri E finisce lì E mi sto a chiedere Se ha studiato bene Dante O non ha studiato bene Non me ne frega niente Poi in più Se sono anche gradevoli Quando sono donne Se hanno quell'aspetto Di gradevolezza fisica Forse è meglio Ma non c'è dubbio Io preferisco Le belle donne A quelle brutte Ma io no Credo che sia un problema Ma infatti Il problema Ritorna a questo Al punto nevralgico Mia moglie Che mi sta guardando Con l'occhio storto Eh Io fossi della signora Prenderei anche Una bella scopa in mano Fossi della signora Prenderei anche Un manico di scopa in mano Ma per fortuna Che tu non sei mia moglie Perché Non ti trarrei qui Neanche 5 minuti Ti butterei fuori A calciare il culo Ho capito Dico Forse della signora Io impugnerei Il manico di una scopa Mi sembra un rapporto Ormai Mi sembra un rapporto Ormai consolidato E come dire Ormai provato A qualsiasi cosa No Vittorio Dopo tanti anni Mi sembra Ma sì Ma per rapporti Tutte sciocchezze Questi sono luoghi comuni Cosa bisogna fare Per tenere fermo Un matrimonio Come hai fatto tu L'hai detto tante volte Però adesso Il fatto che tu sei a casa A quest'ora è anche un po' strano Alle 8 meno 10 Di solito Ecco Che cosa è che tiene insieme Il giornale è già chiuso Il giornale è già ovviamente chiuso Guarda io Con mia moglie Ho un rapporto buonissimo Io le voglio bene Sono sempre pronto A correre in soccorso suo Se ha bisogno E lei è sempre pronta A correre in soccorso mio Se ne ha bisogno Quindi io con lei Sto benissimo È un rapporto di mudo soccorso Un rapporto di mudo soccorso Sì Ottimo Come deve essere Qualcissimo patrimonio Che voglia durare Altrimenti dopo qualche anno 3-4 anni Che stai con la donna Non la sopporti più Eh ma questo è chiaro Cioè un rapporto di mudo soccorso È esattamente la definizione Di un rapporto maturo Caro Parezzo Anche tu pensi Di stare con la tua donna E di farci sesso Per esempio Dopo 20 anni Ambisci a questo Ambisci a questo Sono argomenti che sai In genere io non tratto pubblicamente No davanti a milioni italiani Ha ragione Parezzo Anche perché non me lo immagino Parezzo Che fa senso Mi viene da ridere No anche a me viene da ridere A pensare al direttore Che ha un amplesso Però per carità Rimaniamo con i nostri dubbi Diciamo Io ho la prova Che gli amplessi Ne ho avuti tantissimi Beh anch'io diciamo Però Sì Ma almeno Bisogna indagare Almeno tre Almeno tre E nessuno è di colore Caro direttore Quindi voglio dirti Non c'è problema Ma è un po' piacere No no Voglio dire Il resto Ma tra l'altro L'amplesso Ma cosa ci fa a casa Il direttore alle 19.54 Cosa ci fa a casa Quando c'è un giornale Da chiudere Le notizie da capire Da costruire Ma è una cosa incredibile Io i giornali Chiudo presto Ma come fa a chiudere Un giornale Prima delle Ma è così incredibile Ci faccio notare Che il mio È l'unico giornale L'italiano Che è cresciuto Che non ha notizie Che non ha notizie Non lo puoi dire Fatti perché non ha notizie Un giornale che chiude Ma come fa Ma scusa Come fa un giornale A chiudere Alle 19.50 Col direttore Che già la casa Permetti Che posso avere Non mi posso Pientare Perché sono bravo Mettere tutti È un coglione Alle 19.50 Tu non potresti Finire neanche Il coglianino Dei piccoli Chiude il giornale E lui arriva lì Alle 19.70 Si rompe i coglioni Chiude il giornale E va a casa Mi chiamami coglione È una cosa pazzesca Allora Io voglio dire una cosa Vittorio Nel rapporto sessuale Poi diciamo la verità Alla fine È la donna che domina Diciamola tutta La parte dominante È sempre la donna Quella che decide O no? Ma io non me ne sono mai Accorto Ho sempre deciso Io quello che dovevo fare Hai sempre deciso tu Sei sempre stato tu Però Non è che per me Senza è importante Anzi penso che la figa Sia sopravvalutata E perché questa cosa La figa è sopravvalutata? Scusa Questa è interessante Perché è sopravvalutata? Perché sì Va bene La cosa C'è La usiamo Però Non è che sia Decisiva Per L'avvito Di ciascuno di noi Ma abbiamo anche altre cose Da fare Sì però Il mondo come sai Gira moltissimo Intorno alla figa Intorno al sesso Cioè Molto Gran parte Sì certo Sì lo sappiamo Però perché Si età Si sopravvaluta È sopravvalutata La figa è sopravvalutata Senti Un'altra cosa assurda Che mi viene in mente Collegata alla questione Del matrimonio È il fatto che adesso Qualcuno vuole far sposare i preti Già mai Che siano liberi di scopare Non di sposarsi Cioè abbiamo il matrimonio Ma io sono d'accordo con te Perché Un preto che si sposa Va incontro a un sacco di grane Perché c'è un preto Che ti sposi Dopo tre anni Neppi nei coglioni Cominci a litigare Eccetera Allora tu stai in canonica E arrivano gli strigli Le delitti Eccetera Poi magari hai anche dei figli Uno che si droga Uno che va in discoteca Quindi per il preto Sposato Aumentano solo le grane Non i piaceri Quindi io sono convinto Che È meglio lasciarli scopare E' meglio lasciarli scopare C'è il libato Ma poi certo Scopino Poi vogliono Ma distruggiamo pure la chiesa Dai a vivere Distruggiamo pure la chiesa Che vuol dire Una realtà Meglio che scopino Piuttosto che sposarsi Che c'è la burocrazia Il matrimonio Le separazioni Eccetera Il matrimonio E il regresso Dobbiamo far sposare i preti Che siano liberi di trombare Facciano il cazzo che vogliono Con una Ma quello è certo Ma è ovvio Sono uomini come noi Non è che sono diversi Quindi scopino Facciano quello che vogliono Esatto Però Il matrimonio Comporta Dei problemi Nottevoli Che sono Per esempio L'accordo con la coniuge Esatto Che possono scoppiare Le liti Poi la stanchezza Perché tu Quando una donna La scoppi Per due o tre anni Quattro Non ne puoi più Quindi allora Dicono delle discussioni Sono cose terribili Allora poi Ci sono i figli I figli Che creano un sacco di problemi Uno che si droga Di nuovo Che va in giro Con il motociclo E combina dei casini Insomma Per il prete Per il prete Aumentano solo i problemi Non c'è tutto Io preferisco Preferisco A me non me la frega un cazzo Però Se fossi un prete Senti ma inviteresti A casa tua A cena Quel capo delle sardine Quello Sibatico Santoro Sancazzo Io ma cosa così Lo inviteresti A cena a casa tua Oppure un personaggio Che ti è totalmente Indifferente Questo santuzzo No Mi è totalmente Indifferente Ma poi voglio dire Io Cosa vuoi Non amo Non amo le sardine Non amo le acciughe Non amo Diciamo Questi personaggi Stranchi Che Non si capisce bene Che cosa vogliono Non ci dicono A che cosa Mirino Ma non me ne frega niente Per cui meglio Che ne so Che chiunque Piuttosto che avere a cena Santuzzo Che ne so Magari adesso dico una cosa così Ma una porno Meglio avere una porno star A cena Che avere Santuzzo Ma non c'è dubbio Ma come non c'è dubbio Non c'è dubbio Poi Io ho i miei gatti Che stanno con me Meglio il tuo gatto Non piacciono la Parenza Meglio il tuo gatto Meglio il tuo gatto Stasera ho cenato Con il mio gatto sul tavolo Con una meraviglia Ma come sul tavolo Ma già cenato Poi alle 8 Cosa mangia alle 8 Certo perché Io sono nato in Europa Non come se che sarai nato A Reggio Calabria Ma qua Noi in Europa Mangiamo alle 20 di sera Con il gatto sulla tavola Che pure è antigenico Uno mangia col gatto sulla tavola Che pure è antigenico Ma perché tu dici Che mangiare Ma mangiare tardi È roba da terroni Dici tu no? Sì certo Ma alla sera In Europa Mangiamo verso Il 19-30 Questa è civiltà Ma pensate Sì ma la gente normale Che lavora E che non dirige Il giornale libero Non ha questi orari Che alle 7 e mezza Si mette a tavola Con il gatto Sulla tovaglia Perché c'è degli sfigati Della Madonna Non ha neanche la possibilità Di mangiare Ma scusa Ma mangiare tardi Ma mangiare tardi Ma mangiare tardi È una roba È una roba Da incivili Mangiare tardi Ma no Da strazioni Ma perché strazioni C'è gente che deve lavorare Scusa C'è gente che lavora Un orario di lavoro Ma tu ma stai solo Tu che lavori Alla sera Io sì ci sono stato Mi sono anche trovato bene Meno male Ciao Abbracci A presto Ciao Ciao Abbracci a tutti Arrivederci Tutta un coglionella Tutta un coglionella Allora ho dimenticato Di far sentire a Feltri Questa cosa fondamentale Che l'abbiamo già Ne abbiamo già Sarà già a dormire Figurati Ne abbiamo già Ha già letto Ha già letto Ha lavorato tutto il giorno Ma perché io non ho capito Perché ti stai su coglioni Il fatto che una persona Vada a dormire presto O finisca presto di lavorare Ognuno ha i suoi ritmi Fai il direttore di un giornale Che sono il direttore fontale Direttore Verdelli Secondo te va alle 8 A mangiare Ma quelli chiuderà dopo Che c'entra E infatti fanno le notizie Bravo Differenza fondamentale E infatti qui ce la liano le notizie Quello si sveglia la mattina Alle no Alle 10 Non fai Fa colazione Ascolta la radio Leggi i giornali Fuma delle sigarette Va al lavoro Verso le 11 Dice Allora Allora facciamo il titolo Sui negri Ma vaffanculo negri Mettiamo Ma diciamo al direttore Proprio così Va bene Ci riaggiorniamo Alla riunione delle tre Va a pranzo Riposino Ritorna Ci sono novità In redazione Direttore Allora ci abbiamo Questo 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 Confermerei Solo negri Nella notte Pericoloso Girare per strada Se uno è negro Io farei questo E alle 7 Se ne torno a casa Questa è una giornata tipica Questa è una cosa Questa è Perché alle 7 e mezza Vabbè già mangiato Alle 8 e 09 Sarà già a dormire Figura Incredibile Incredibile Allora Adesso può accadere qualunque cosa Ma lui tanto Ma frega niente Ma io Ma non me frega niente Guarda qua Notizie che continua ad arrivare Per esempio Niente Non frega niente Nulla Notizie Non è che si fermano Notizie No no Il giornale Chiude Alle 7 Allora Un testimone Al processo Che non so Rubiter Quater Quinquere Queste puttanate Di processi A Berlusconi Con la frase fondamentale Nella stanza buia Cavalcavano Il presidente Beh ragazzi Che numero 1 Ma io mi so Cavalcavano Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti